Il 5 giugno i cittadini corniatesi saranno chiamati ad esprimersi con il loro voto in merito all'elezione del sindaco e dei consiglieri che dovranno gestire la nostra città nei prossimi cinque anni. È una scelta importante in quanto per noi il voto non rappresenta solo un atto di simpatia o una semplice scelta, bensì costituisce un autentico atto di fiducia che non deve essere superato o distorto dai condizionamenti di plateali promesse di vario tipo o da denigrazioni gratuite che sono indice di assenza di rispetto verso gli elettori. Noi contiamo fermamente sulla capacità di giudizio degli elettori corniatesi che sapranno valutare le esperienze pregresse nonché gli impegni programmatici assunti che noi abbiamo proposto in modo chiaro e comprensibile e sulla cui possibilità di attuazione siamo convinti. La città di Corniè, spogliata in questi cinque anni di importanti servizi, chiede la presenza di una voce forte e chiara che sia di sostegno e di supporto per far fronte ai propri bisogni e alle proprie necessità. Non è più tempo di supine accettazioni, ma di fermo contrasto a questa continua tendenza all'arretramento. Sorretti da queste premesse chiediamo il consenso agli elettori corniatesi. In questi anni siamo sempre stati al loro servizio, consapevoli di essere ancora utili, in quanto il nostro operato ha sempre avuto come fondamento l'interesse della nostra comunità. I corniatesi potranno contare sulla nostra presenza quotidiana, sulla nostra leale osservanza agli impegni e sulla nostra continua dedizione alla città. È con questo spirito che rivolgiamo il nostro caloroso appello agli elettori affinché vogliano accordarci la loro fiducia e la loro stima. Sarà nostra cura dimostrare con il nostro operato di esserne stati degni.